Ciao, siamo in Piazza Rengo, siamo qui ad Ascoli, ci apprestiamo a vivere forse notti Magiche, forse no, chi lo sa? Quello che è certo è che domani a partire dalle 10 ci accingiamo a giostrare insieme ad altri alzieri Una delle gare più importanti della nostra vita, il trentesimo campionato nazionale di categorie Quali sono i gruppi non si sa, chi vincerà nemmeno, l'unica cosa certa è che Cristian fa cagare Fa cagare, lo sappiamo tutti, però fa parte di un gruppo di mannoso Lui è Cristian, la gran cacchera del gruppo, la piaga Ciao ad Ascoli, la rione vecchia matrice, casa normanna, campagnoli, giallo-verdi, dragoni di molto santa cacchera E dire, un in bocca al lupo a tutti e che vincano le idee non è reale Stai un cazzo Grazie a tutti Grazie a tutti